Presidente, relativamente a questo documento che abbiamo anche visto in Commissione, io vorrei sottolineare, anche per fare chiarezza, perché mi sembra che siano un paio di giorni che riemerge continuamente. Noi abbiamo letto benissimo questo documento che ha presentato la consigliera Celli, tra l'altro scritto in inglese, dall'AS Roma. Diciamola questa cosa che è importante, non è collegato minimamente al progetto dello stadio, è un'intenzione espressa dalla società, dalla Roma Calcio, dove, in questo caso firmata dal Presidente Pallotta, dove si dice che si sarebbero potuti fare alcuni investimenti relativi ad impianti sportivi nella capitale. Però io ancora devo vedere questo documento come è collegato al progetto dello stadio. È una dichiarazione di intenti, legittima naturalmente, che noi prendiamo e possiamo comunque portare avanti, ma io non credo che vada in qualsiasi caso collegata oggi, anche un po' in modo strumentale, come se volessimo far credere a qualcuno che quei campi erano già progettati o finanziati. Non era così, diciamola questa cosa, per fare un po' di luce su questa questione. Grazie, Presidente.